Buonasera ragazzi, io sono Luca di Lario Immobili e questa sera volevo parlarvi di un altro caso di successo della vendita di un appartamento nella zona di Posizio, non lontano dal lago e volevo parlarvene per due motivi. Uno per darvi qualche informazione sul nostro metodo di vendita in caso tu debba vendere la tua casa e decida di affidarti a un esperto oppure per darti qualche consiglio in caso tu decida di vendere la tua casa in modo autonomo. In particolare quindi volevo parlarvi di questo appartamento, della vendita di questo appartamento nella zona di Posizio che aveva alcuni aspetti un po' problematici, per esempio quello di essere disposto su due livelli ma con la mansarda non completata, quindi a rustico in gergo tecnico. Sotto al primo piano invece si trova un trilocale normalissimo di dimensioni medie, quindi con due camere, un bagno, soggiorno e cucina. Questa mansarda in effetti rappresenta un valore perché rispetto al trilocale normale dà uno spazio aggiuntivo però non essendo completata mette l'acquirente nelle condizioni problematiche di doverlo terminare dover affidarsi a un'impresa, un geometra, un progetto, delle pratiche comunali, insomma una complessità che magari non tutti amano. La casa si trova in una zona molto verde, residenziale, è vicino al lago ma non vede direttamente il lago perché c'è diciamo una barriera di piante davanti. Come abbiamo approcciato la vendita di questo immobile? Allora innanzitutto abbiamo fatto fare un progetto di ristrutturazione per terminare l'immobile in modo che il potenziale acquirente avesse tempi e costi certi. Quindi progetto di ristrutturazione per terminare la mansarda e abbellire un po' la parte sottostante con anche dei rendering che rappresentano un po' l'immobile una volta terminato il lavoro di ristrutturazione. Poi è stato fatto un video con il drone, visto che la zona era molto verde e molto gradevole, è stato fatto un video con il drone con delle foto, quindi delle riprese dall'alto, anche facendo vedere la distanza, quindi la vicinanza con il lago, scoprendo il lago un po' da dietro le piante e facendo anche vedere sul video la passeggiata che c'è lungo il lago. Questa è una cosa chiaramente appetibile per una famiglia, per una coppia, per chiunque, insomma, mi stare un pochino alla riaperta. Abbiamo anche deciso di far imbiancare l'appartamento proprio per levare quei colori non tanto gradevoli, non tanto veri, e dare un'immagine dell'appartamento più pulita e più attuale, più nuova, insomma. In questo modo abbiamo valorizzato l'appartamento, abbiamo valorizzato il progetto dell'appartamento, il progetto di ristrutturazione, quindi facendo vedere il potenziale dell'appartamento e l'abbiamo, diciamo, reso più pulito, più luminoso, più gradevole anche per le visite. Con queste tre tecniche abbiamo pubblicizzato sui portali e su Facebook l'immobile con le fotografie della parte già finita, pulite, ordinate dopo averlo imbiancato, i rendering della parte da terminare, quindi per vedere, per far vedere come sarebbe venuto l'immobile a fine lavori, e il video col drone per inquadrare la zona e le sue, diciamo, tipicità, le sue particolarità. Oltre ai portali immobiliari soliti abbiamo utilizzato, come sempre, una promozione, una pubblicità a pagamento su Facebook con un modulo di richiesta informazioni con il quale instauriamo una comunicazione o su Messenger o via mail o su WhatsApp con i nostri clienti, che possono quindi chiedere informazioni, ottenere nuove foto, documenti e fissare appuntamenti. Questa cosa è molto semplice perché poi le persone lavorano, sono in ufficio, sono al lavoro, sono in fabbrica, se li chiami non possono rispondere al telefono, in questo modo con una comunicazione asincrona come quella può essere quella appunto di WhatsApp si instaura una comunicazione molto semplice, molto immediata, ma non invasiva e non fastidiosa. Quindi abbiamo valorizzato l'appartamento, abbiamo reso certi i costi e i tempi e l'abbiamo reso più gradevole, pulito, luminoso, anche con il video, con il drone, quindi inquadrando la zona in cui è collocato l'appartamento. Questa cosa ci ha permesso di vendere l'appartamento in un tempo ragionevole e con costi minimi perché poi alla fine, a parte imbiancare l'appartamento che l'ha fatto il proprietario stesso dell'appartamento anche perché non si richiedeva un'imbiancatura professionale, si richiedeva sostanzialmente una pulizia dell'appartamento, il resto sono costi che abbiamo sostenuto con dei nostri tecnici che non sono stati pagati dal venditore ma che sostanzialmente verranno pagati durante il processo di ristrutturazione che verrà portato avanti dall'acquilente. Bene, spero che vi sia stato utile e se avete domande sulle tecniche di on staging potete scriverci o chiamarci senza nessun problema, siamo qui per rispondervi. Nel frattempo io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Viva! Grazie! 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 Grazie!